Se c'è una cosa che manca nelle nostre comunità cristiane, è questo atteggiamento di confessione. La croce di Cristo morto innocente per noi domanda invece questo modo di stare nudi di fronte allo sguardo di Dio che ti ama in Gesù. La croce di Cristo esige questo. Noi di solito invece sfuggiamo da questa attitudine di confessione. Tanto ostinatamente il nostro io ogni mattina al risveglio pretende sempre su di sé le luci della ribalta.